Soprattutto i giovani devono prendere coscienza sia dell'emergenza della questione cibo. Nel 2050 si prevede una popolazione mondiale di circa 9 miliardi di abitanti, quindi c'è un'emergenza alimentare che purtroppo nasce anche dalla ingiusta, iniqua redistribuzione delle risorse a livello globale. Ma questa giornata sia anche importante per capire le cause che poi portano al problema dell'emergenza alimentare, e sono le cause dovute alle guerre, ai conflitti che nascono naturalmente da interessi materiali molto forti, in particolare in Africa. In questo momento abbiamo veramente dei grossi problemi e delle grandi emergenze. La sicurezza alimentare, i cambiamenti climatici ed anche i flussi inarrestabili di migrazioni possono essere contenute attraverso maggiore sviluppo rurale, attraverso maggiore sicurezza alimentare, attraverso molti più interventi di cooperazione allo sviluppo nelle aree rurali e costiere. Ladies and gentlemen, dear students, I'm very pleased that Sia Hanan and the current Minister of Foreign Affairs Grazie mille. Grazie a tutti. Grazie.